Ciao a tutti, oggi siamo in Mercedes Abbiamo portato infatti oggi il monovolume dal dottore qui in Mercedes Perché grazie a una partnership con Mercedes abbiamo ottenuto la possibilità di far revisionare bene l'auto Controllarla, vedere che tutto si è a posto per partire in un modo un po' più sicuro E niente, adesso incontreremo il capo meccanico Vediamo cosa è stato sistemato, cosa è stato cambiato E niente, poi partiremo un po' più sicuri, si spera Praticamente abbiamo sistemato la perdita d'aria che interna i sospessi posteriori sull'indole trovata di normale Siamo appena usciti C'erano un bel po' di magagnette Hanno riparato tutto, motore, frizione, sospensioni, cambio, un po' di tutto Infatti la macchina non era presa tanto bene E niente, possiamo partire sicuri E grazie a Mercedes una sicurezza sempre Grazie a tutti